ciao ebbene sì l'ho rifatto di nuovo ho fatto shopping oggi sono andata in centro perché dovevo fare delle commissioni e mi sono imbattuta casualmente in acqua e sapone quindi ho prezzato del cosine che adesso ve le faccio vedere sono appena arrivata a casa quindi devo ancora sistemare il tavolo perché tutto un disastro però insomma ci tenevo troppo a farvele vedere allora prima cosa che ho preso è questa lima per le unghie che era vicino allo stand della della cassa questa qua si chiama pro professional style and care costava un euro e 99 pro lima di cartone dritta grigia a me dentro ce n'è due come potete vedere e mi servivano perché queste veramente le avevo finite poi il burro cacao dei provenzali ecco qui ho preso anche questo il solvente senza acetone per le unghie di solito io prendo questo comunque poi le salviette della garnier questa erano in offerta sono 25 salviette ultra struccanti struccano senza sfregare efficace anche con il trucco per il trucco waterproof quindi ne ho altre da finire però insomma ho voluto prenderle perché ovviamente erano in offerta poi c'era lo stand della lo stand della maybelline che era tutta un euro e 99 va degli smalti delle matite e basta mi sembra perché mascarano comunque ho preso questo qui di questa tinta qui questo qui si chiama aiuto mamma mia dov'è il nome non so non c'è un nome non so insomma ho preso questo di questa tinta lo so che prendo sempre ultimamente prendo questa tinta ma mi sono un po fissata e questo appunto ho pagato un euro e 99 poi ho preso queste tre matite qui allora ne ho presa una olgato una marrone una blu e una grigia queste qui erano tutte a un euro e 99 ciascuna e qui io vi ho fatto lo swatch delle matite insomma a me piacciono tantissimo tantissimo e scrivono anche tanto quindi ho detto va bene le prendo ecco qui ecco questo era quanto questo è il scontrino ho speso in tutto 1492 va bene ecco qua questo è lo shopping che il bottino che sono riuscita a portare a casa oggi grazie e ci vediamo la prossima volta ciao